Attenzione al Genoa, 1-2 limite, immobile, tira e rete, 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 purtroppo nel Genoa, purtroppo nel Genoa, cimo immobile. Attenzione, attenzione, non si... Vediamo il rischio clamoroso, lo posso dire Antonio, credo, clamoroso, corso dell'aiuto. Ancora Giovico che fa movimento là davanti, ancora Giovico, spero che te la metta dentro, il palo di Giovico, il palo di Giovico, il palo di Giovico, l'unico che prende palla, che prova ad andarsene, che ne salta qualcuno, e che tira, e che tira. Il 50 minuti è l'unica cosa che ha fatto, un palo ha preso, il 50 minuti. Tu in due ore non hai detto neanche ancora una. Giaccherigno! Giaccherigno! Magistrale Gigione Buffon, che ha ipnotizzato Bertolacci sulla ripartenza, liscia come l'olio! Giaccherigno! 1-1 e andiamo da vincere! Andiamo da vincere! Calcio di rigore per la Juve! Calcio di rigore per la Juve! Penetrazione di Asamoah! Come godo quando tocca Asamoah! Come godo quando entra in area Asamoah! Bertolacci a commettere l'errore! Vediamo un po'. Arriva il fischio, parte Zorro e la mette dentro, e la mette dentro, e la mette dentro, e la mette dentro! Mirko, Zorro, zutton, 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 2-1! La Juventus ribalta la frittata al Ferraris, al Ferraris! Calcio di rigore! È cambiata la partita con Mirko Vucvic, la messa dentro, bravo Asamoah, 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 Asamoah! Mi sento come un riccio, mi sento come un riccio, quando la mette dentro Asamoah! E sono tre! E sono tre! Che secondo tempo! Mamma che secondo tempo! Una partita falsata! Una partita falsata! Una partita falsata! Sei stato zitto dal sedicesimo di essere! No, soltanto zitto! Sei stato zitto dal sedicesimo di essere! Sei una contraddizione unica! Meritate questo vantaggio, per l'amor di Dio! Occhio Totti! Ma dovete non smettere di fare vittimismo! Cronaca! Cronaca! Senza Conte! Senza Conte! Silenzio! Penalizzate! Silenzio! Che diverso! Silenzio!